Traffico di olio lubrificante di provenienza sconosciuta in violazione delle norme sul trasporto e lo stoccaggio dei combustibili. È quanto hanno scoperto i finanzieri di Palermo che hanno fatto scattare l'operazione denominata Oil Box. Un continuo andirivieni di furgoni pronti al successivo carico e scarico ha insospettito le fiamme gialle, entrata in azione alle prime ore del mattino, all'interno della sede operativa di una ditta dedita da anni alla vendita al dettaglio di ricambi di auto. Qui sono state trovate migliaia di lattine e di flaconi di olio lubrificante tenuti senza alcuna cura delle prescrizioni sulla sicurezza della conservazione di liquidi infiammabili e quindi altamente pericolosi. Tra batterie, rotoloni di carta, supporti meccanici ed utensili vari, nel box magazzino è stata inoltre rinvenuta, ben occultata da una parete costituita da materiale plastico, una gigantesca cisterna di olio lubrificante di provenienza sconosciuta. Complessivamente il lubrificante sequestrato sfiora i 18.000 litri per un valore stimato di circa 95.000 euro. Il titolare della ditta, un palermitano di 45 anni, è stato denunciato per contrabbando di prodotti energetici e per l'omessa denuncia di un ingente quantitativo di prodotti infiammabile detenuto in assenza del prescritto certificato di prevenzione degli incendi. Proseguono intanto gli accertamenti dei finanzieri per appurare la reale provenienza e la destinazione del prodotto, nonché per ricostruire il giro d'affari della ditta che per adesso ha evaso al fisco circa 7.000 euro di imposte di consumo.